allora bene ritrovati proseguiamo il nostro viaggio sull'evoluzione dei modelli numerici per il natale e capodanno già nei giorni scossi abbiamo già affrontato queste tematiche vi rimando anche ai video che abbiamo fatto che potete trovare nella nuova stanza di tre bimeteo punto com su youtube dove ci sono diversi approfondimenti che riguardano non solo tematiche al luminoso a lungo termine ma anche a carattere climatico quanto stiamo trattando qua è solamente una discussione sui modelli numerici cioè noi stiamo cercando di vedere quello che il modello numerico in questo caso ECMWF ci mostra ma anche dando una spiegazione al perché il modello numerico si comporta in una determinata situazione circa una particolare evoluzione in questo caso quella del periodo di natale allora in poche parole il modello mostra noi abbiamo preso la media il modello numerico mostra questi passaggi di perturbazioni sopiti e interrotti da queste pausi anticicloniche ad inizio della settimana poi delle nuove perturbazioni e poi vedete come intorno al 16 17 di dicembre c'è una forte rimonta di un anticiclone subitropicale che interessa l'Europa soprattutto l'Europa centro occidentale e anche parte della nostra penisola vediamo un pochettino di capirci un po meglio questa è l'evoluzione tra l'11 e 18 dicembre mostra un anticiclone promontore di anticiclone sull'Europa occidentale la media d'ensemble su una settimana e poi nel periodo successivo tra il 18 e il 25 e tra il 25 il primo gennaio una completa una trasformazione di questo scenario da un anticiclone di blocco sull'Europa ad un anticiclone un ridge atlantico in atlantico e poi una progressione di questo anticiclone verso l'agroellandia secondo quello che viene chiamato un classico pattern da now è negativo tra natale e capodanno cerchiamo di vedere un pochettino perché il modello mostra cioè vediamo cosa il modello non solo che cosa vede il modello ma anche perché lo vede lo facciamo attraverso il diagramma di home waller che sarebbe questo questo diagramma in poche parole mostra la posizione delle anomalie di geopotenziale nel tempo lungo l'asse y e nello spazio lungo l'asse delle x x rosso e blu rappresentano appunto le anomalie di geopotenziale rispettivamente rosso quelle positive e blu quello negativo quindi ci da una diciamo una fotografia nel 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 tempo ma anche nello spazio di dove potrebbero essere posizionati i centri motori del tempo ma non solo questo ci fa vedere anche le onde di rosby che si possono vedere in maniera trasversale quindi questo questo passaggio questo pacchetto di onda di onde di rosby che si muovono e quindi cosa potrebbero a loro volta comportare sul non solo solamente sul sull'europa ma anche su altre parti dell'emisfero settentrionale in particolare si può notare che c'è una progressione di un'onda di rosby proprio nel corso dei prossimi giorni in partenza dal pacifico che avevamo detto nei giorni scorsi si attivava a causa di un cosiddetto mountain torque positivo questi concetti potete anche rivederli perché l'avevamo già spiegati nelle puntate precedenti comunque si forma questa onda di rosby che in pratica si mette in movimento e raggiunge proprio il settore atlantico dove andrà a incontrare l'anticiclone che nel frattempo scende dal si muove dall'america verso verso l'atlantico e che nel diagramma delle fasi lo potete vedere scendere lungo questo praticamente di cui questo tracciante rosso in pratica questa onda di rosby attraverso l'energia che porta andrà a rafforzare proprio l'anticiclone euro atlantico diciamo tra il 16 e il 18 di dicembre non solo ma questa questa anticiclone avrà il supporto della madden junior oscillation perché anche la madden forza onde di rosby e quindi nel passaggio della madden junior oscillation nelle fasi 4 e 5 supporta proprio l'anticiclone euro atlantico questo anticiclone euro atlantico appunto avrà il supporto appunto della madden junior oscillation quindi diciamo che le fasi 4 e 5 della madden junior oscillation che intanto si sposta dal continente marittimo verso il pacifico in pratica non sono buone in questa fase per quanto concerne l'inverno in europa ma siccome il mountain torque è molto attivo e porterà anche delle ondate di maltempo sulla california secondo un classico tipica risposta del tipica del nino produrrà anche altre onde di rosby in particolare la seconda che si muoverà con la stessa diciamo modalità raggiungerà il settore l'atlantico intorno al 20 21 di dicembre ma cosa farà questa onda di rosby tenderà a fare retrocedere il l'anticiclone euro atlantico proprio nel cuore dell'atlantico questa onda di rosby però sarà anche supportata non solo alla madden junior oscillation che intanto si sarà spostata verso il pacifico occidentale ma anche da anche dal nino o anche da altre forcing a bassa frequenza quindi riassumendo abbiamo tre tre step un primo step generato dal da questa onda di rosby che andrà a rafforzare questo anticiclone sulla 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 europa occidentale quindi l'anticiclone supportato anche dalla madden junior oscillation un secondo step in cui intervengono altre onde di rosby e che non faranno altro che portare dietro questo anticiclone dall'europa occidentale verso verso l'atlantico in questo caso non è la madden junior oscillation come fattore predominante ma sono probabilmente anche forzanti legate al nino perché anche il nino produce onde di rosby così come lo iode quindi queste variabili a bassa e bassa frequenza questo è in pratica è quello che i modelli mostrano è quello che noi raccontiamo attraverso queste evoluzioni e soprattutto vi raccontiamo cosa c'è dietro questi modelli c'è il perché si possono verificare determinate pattern in europa cioè alla fine conti tutto deve tornare attraverso la spiegazione anche di queste forzanti su scala sub stagionale stagionale è vero anche vero che non tutto si riesce a spiegare attraverso queste forzanti o anche attraverso la madden junior oscillation perché poi ci sono altre dinamiche possono prendere luogo però in questo caso ci preme farvi farvi vedere come questo questa evoluzione è proprio una classica una classica una risposta sia la madden junior oscillation che la seconda fase alla madden junior oscillation e anche al nino che intanto si sarà rafforzato in virtù della progressione della madden junior oscillation nelle fasi nelle fasi e nelle fasi alte questa evoluzione del modello numerico è anche supportato dal dal jeffs che mi mi mostra mostra appunto l'arrivo ecco vedete vedete questo anticiclone rossi lo spostamento dell'anticiclone atlantico verso l'europa ecco il rinforzo di questo proprio di questa sorta di omega e poi notate come pian piano questo anticiclone tenderà a spostarsi verso verso l'atlantico dove andrà appunto rafforzarsi appunto in pieno atlantico verso verso anche la groellandia mentre nel contempo sull'europa dovrebbe aprirsi a ridosso del natale un altro periodo dinamico ovviamente queste sono delle discussioni del tutto generale vanno confermate perché ovviamente sono tra virgolette delle speculazioni modellistiche vanno confermate noi seguiremo appunto l'evoluzione di questa di questa dinamica che i modelli continuano sempre a riproporre vi rimando ai prossimi aggiornamenti